Buona la prima per la prima puntata, scusate il gioco di parole, di Mission Impossible dove la bella Mission Reunzeca ed Eros Ramazzotti sono tornati di nuovo insieme, però soltanto per una notte Il nuovo programma condotto dalla bella conduttrice Italo Svissera riesce veramente a catalizzare l'attenzione di tutti nessuno escluso, la famiglia finalmente si riunisce e scalda i cuori di tutti i fan e soprattutto di tutti quelli che l'hanno visti Eros ha cantato un metodo delle canzoni più importanti e famose del suo repertorio, Michelle si è messa da parte e l'ha fatto cantare Poi c'è stato il più il brano, più bella cosa, il brano che ha scritto Luis Lace per lei e per lei stessa In quadratura ha tradito una certa emozione della conduttrice, i fan si sono scatenati in diversi social network dicendo a gran voce che vorrebbero tutti o quasi che tornassero insieme Una speranza che non si sa se sarà, diciamo così, raggiunta, si raggiungerà ma in qualche modo, in qualche maniera in più sostengono che purtroppo questo evento non si verificherà mai Ognuno pensi ciò che vuole, comunque buona una prima per Michelle Impossible un programma di bellezza e di facile impressionante che ha avuto già un eco mediatico, un meno successo di audience abbastanza buono, azzardo a dire Dal narratore italiano di Youtube Italia è tutto, iscrivetevi, commentate Ciao a tutti